Ciao a tutti, oggi vediamo delle raspe tagliate a laser in acciaio. Sono specifiche per togliere la pelle secca e i duroni dalla pianta dei piedi. Sono ricoperte di gomma, un manico ergonomico, si possono usare anche sotto la doccia. Sono professionale di alta qualità, come vedete di tanti colori diversi. E in particolare due grane diverse a seconda del lato che si utilizza. C'è una prima parte molto più rugosa e poi il retro invece per dare l'ultima passata e lisciare perfettamente la pelle. Questi attrezzi li trovate sul nostro sito e oltre alle raspe troverete tutti gli accessori per mani. Visitate il nostro sito e iscrivetevi al nostro canale YouTube Elettronica Didattica. Grazie per l'attenzione, alla prossima. Ciao a tutti!